Aurelia non è pronto per sapere certe cose. A me però me le dici. Non sei come tuo fratello. A spazio ti sto a far crescere per farti diventare un capo. Pischello era e pischello sei rimasto. Ma le chiede per me su una panna arcesi. Marchelli Gabriele? Sì, che ti serve? Via fuori. Lo sai che sto io, sì? Secondo me c'è 24 ore di tempo per portarmeli i sordi. Hai capito? Ma non mi va manco di più a ordine. Senti, mi serve una mano, sto nella merda. Chiudiamo che le famiglie e se ripiamo la vita nostra. Daglia. Daglia. Però ma non si governa. Al massimo si amministra. Non si fermano davanti a niente. Tutta Roma è zona mia. Attento a far scoppiare la guerra. La perdi. Io ho ammasso a tutti. Che cazzo hai fatto? La soppurra. La sua a presto. La sua a presti. I sordi. Alla prossima. Grazie a tutti.